Buonasera, l'appuntamento di lunedì prossimo 15 giugno, che segna l'inizio dell'esame di maturità, è importante per gli studenti che chiudono così un ciclo. Per molti di voi, i più giovani, è un passaggio verso la vita adulta. Molti altri, che adulti lo sono già, conseguiranno un titolo di studio in cui sperano per migliorare la propria condizione lavorativa. Per alcuni, il diploma sarà un progresso verso la ricostruzione di un'esistenza normale che superi i vecchi errori. A tutti i candidati del Fresi, dunque, rivolgo un augurio di fare il meglio possibile, di prendere un bel voto con cui poi proseguire nel proprio cammino. Il 15 giugno sarà però un appuntamento importante anche per un'altra ragione. Dopo quattro mesi di chiusura, la scuola, quella che noi siamo abituati a chiamare scuola, finalmente ripartirà. Gli insegnanti arriveranno per costituire le commissioni, i collaboratori scolastici saranno sui piani, e dal 17 giugno gli studenti delle quinte rientreranno nelle classi per la prova orale. Bisogna dire che questo rientro sarà particolare. Tutti dovranno fare molta attenzione e sarà necessario rispettare alcune regole per la propria sicurezza e per quelle degli altri. La prima è che chiunque entri a scuola dovrà dichiarare per iscritto di non essere venuto a contatto con il Covid. Dunque, dovrete arrivare da casa con il modulo di questa dichiarazione già compilato e firmato. E, indossando la mascherina, a scuola ne abbiamo comunque a disposizione migliaia per chi la dovesse dimenticare, perché senza non potrete entrare nell'edificio scolastico. Prima di accedere, tutti dovranno farsi provare la febbre e consegnare il modulo di autodichiarazione. Dovrete lavare le mani spesso e disinfettarle con il gel che mettiamo a disposizione in ogni locale. Ognuno dovrà presentarsi in via Moretti, dove si svolgeranno tutti gli esami ad orari precisi. Cercate quindi di essere molto puntuali. Gli studenti riceveranno una mail il giorno prima della prova orale per ricordare data e ora in cui si dovranno presentare a scuola. Ogni studente potrà essere accompagnato solamente da una persona. Desidero sottolineare il ruolo importante che avranno i collaboratori scolastici, perché sono chiamati in continuazione a mantenere la pulizia e la sanificazione dei locali. Se tutti, studenti, insegnanti e personale atta, faranno il loro dovere, se nulla sarà trascurato, e tutti i preparativi saranno attuati al meglio con coscienza ed impegno, saremo capaci di superare questa prova, come credo riusciremo benissimo. La notte prima degli esami, questa volta è stata veramente buia. Adesso è tempo di lasciarcela alle spalle. Grazie della vostra attenzione e ancora buonasera.